Sempre qui a Milano, Real Estate Awards 2017, siamo al termine della prima tavola rotonda con noi Pietro Pellizzari, l'amministratore di Wikicasa. Ciao Pietro. Ciao Alessandro e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Ecco, appena terminata la prima tavola in cui si parlava di tecnologia e agenti immobiliari. Diego ha mostrato dei dati poco confortanti sul mercato americano dei portali che significavano una perdita per quello che può essere le quote di mercato dei portali. Tu invece sei stato subito molto positivo per il mercato italiano. Non sono informazioni che ti tornano? No, 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 mi tornano ma bisogna precisare. Il mercato americano è il mercato americano, il mercato italiano è il mercato italiano. Negli Stati Uniti i portali continuano a crescere, crescono un po' più lentamente ma semplicemente per il fatto che hanno già raggiunto delle dimensioni esorbitanti. Sono società quotate in borsa che capitalizzano miliardi. Qui in Italia siamo ancora anni indietro, quindi io vedo anni di crescita a doppia cifra. Io sono positivo, credo che gli agenti immobiliari oggi abbiano capito ormai che il canale principale da cui raccolgono i contatti è il web. I portali sono il fulcro della raccolta dei contatti web. Devono capire che l'investimento che fanno nei portali è un investimento volto a aumentare il loro fatturato, non è una spesa. È un investimento che ha la finalità di incrementare poi i contatti, i clienti che entrano nell'agenzia e quindi anche i risultati che loro possono ottenere. Ecco, a proposito di andamento dei portali e delle azioni di marketing degli agenti immobiliari. Recentemente con lo sviluppo di quello che è il marketplace di Facebook e delle varie campagne a pagamento, dei corsi di autoformazione degli agenti immobiliari dove si fanno delle campagne mirate per la promozione degli immobili. Voi come portale avete notato dei cambiamenti per quanto riguarda l'adesione e la pubblicazione ai vostri portali a discapito di questa tipologia di marketing? No, assolutamente. Noi stiamo crescendo con questa tendenza perché noi lavoriamo in maniera diversa rispetto ai portali tradizionali. Da noi l'agente immobiliare non paga per inserire le inserzioni. Il nostro è un portale che funziona come i portali americani. Di base le agenzie possono inserire gratuitamente i loro annunci, poi possono ovviamente investire per ottenere più contatti e questi contatti io li vado a prendere da Facebook, Google, dal web. L'utente quando va online non si limita a visitare un portale immobiliare. Ne visita diversi, va sugli aggregatori, poi vai sui social network, si informa, va sui siti di news e lì entrano in gioco le nostre campagne. E le nostre campagne performano molto bene perché una campagna Facebook o Google svolta dalla singola agenzia non potrà mai ottenere i risultati che otteniamo noi. Perché? Perché noi abbiamo più dati per sviluppare le campagne e quindi abbiamo più cookies, quindi abbiamo più utenti targetizzati perché abbiamo più dati, informazioni con le quali ottimizzare le campagne e perché già con noi lavorano migliaia di agenzie. Quindi da noi non c'è nemmeno la necessità di pagare un tecnico che gestisce le campagne, l'investimento che fanno da noi viene travasato poi di fatto in click che andiamo a comprare per l'agenzia. Chiudo dicendo che bene che le agenzie sperimentino Facebook, Google, non devono diventare degli esperti di digital marketing, devono fare gli agenti immobiliari, devono conoscere gli strumenti online, saperli utilizzare, ma il loro lavoro poi è un altro, non è quello di esperto digitale, quello lo devono far fare ai professionisti e conoscere poi come funzionano questi strumenti per poi valutarli. Quindi benvenga, ci mettano a confronto con le campagne e vedano se performano di più le nostre o quelle che stanno facendo per conto loro. Accetto la sfida. Ecco, un'ultima domanda Pietro. Infine c'è un ultimo interlocutore che si è posto nel mercato delle inserzioni immobiliari, ovvero i portali che promuovono l'intermediazione che in realtà non è intermediazione perché è il contatto diretto fra i privati. Qual è la tua opinione in merito? Ma noi siamo al lato opposto perché il nostro è il principale portale italiano riservato ad agenzie immobiliari, quindi lavoriamo solo con professionisti e siamo il più grosso portale per numero di inserzioni, traffico, contatti generati e quant'altro. Io credo che ci sia spazio per tutti nel mercato, quindi non ho nulla contro questi operatori. Ecco, non vedo grossi spazi di crescita per loro per un semplice motivo che i principali portali italiani già lasciano pubblicare il privato. Quindi non capisco perché, e di più gratuitamente, non capisco perché un utente che vuol vendere casa da solo e non vuole affidarsi a un'agenzia debba utilizzare il dodicesimo portale italiano anziché andare sul primo dove già può pubblicare gratuitamente. Quindi non vedo per loro degli spazi di crescita, la disintermediazione in Italia ci sarà sempre, ma sta alle agenzie e poi investire nei canali giusti, offrire servizi a valore aggiunto e quindi la battaglia della disintermediazione non è vero che si gioca online, si gioca dentro le agenzie con un miglioramento della qualità dei servizi offerti da parte dei professionisti. Quindi portali sempre e comunque nell'online ma alla fine dobbiamo fare perno sugli agenti immobiliari. Certo, il nostro obiettivo è essere dei partner, il mio obiettivo è far sì che se un'agenzia investe X sul nostro portale Wikicasa abbia alla fine dell'anno un ritorno che è Y e che deve essere evidentemente maggiore di X. I portali sono dei partner, sono degli strumenti, sta agli agenti immobiliari monitorare i risultati di ciascun canale, valutare quello che ha il costo per contatto migliore e quello che aggiunge diciamo del valore al loro servizio. Evidentemente il nostro essendo riservato alle agenzie è un qualcosa in più che possono offrire e che il privato non potrà mai raggiungere perché lavoriamo solo con i professionisti noi. Grazie per tutto il tuo contributo e andiamo avanti con la seconda tavola rotonda. Assolutamente, grazie a te. Grazie a te.